come ho detto nell'intervista di prima il calcio ha fatto anche di episodi loro sono stati bravi a sfruttarli perché un tiro da fuori da fuori aria una punizione lì ci poteva far poco sono stati bravi loro e niente adesso cerchiamo di partire bene domenica col cesena e basta assolutamente sì e noi quello ci metteremo sicuramente del nostro ci impegneremo ancora di più non che oggi non che stasera sia mancato l'impegno però purtroppo è nata male e seguiamo il mister seguiamo i suoi consigli e e cerchiamo di fare la vittoria domenica guarda nello spoglatoio le cose ce le teniamo per noi nel senso non noi siamo comunque sereni siamo una buona una buona squadra e sono convinto che ci diremo il campionato alla grande vabbè sicuramente devo riprendere la forma il ritmo partita però sono contento di aver contribuito nei 45 minuti anche se purtroppo è andata male e ripeto devo ritrovare il ritmo però sono comunque contento di aver ritoccato il campo dopo tanto tempo e non vedo l'ora di scendere in campo poi domenica per per vincere la partita Gemini mi nomina io Grazie a tutti